Il bucchio è coperto, vai! Buonanotte, buonanotte, io ho bisogno di una bella cucina, bisogna una bella cucina, ma dammi un po' di coperno, se non chiede la sua vietta per cucinare, che cosa sono? Alla c'è una cucina CS, è una cucina che ha sogno, guarda che baciù che piegati, una baciù così non ce l'ha neanche, o non ci vuole! Oggi una cucina C.S. Oggi una cucina C.S. Non perdere tempo, la mamma è comprata una cucina C.S. Spose, piangete che la mamma vi regala le cucine C.S. Cucine da sogno. Spose, venite che la mamma vi regala le cucine C.S. Cucine da sogno. E tu, spaventura? E per i voli sentire? Cucine C.S. Cucine C.S. Cucine C.S. Cucine C.S. Come voi? E qui? E qui? E qui? E qui? Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni. Vai, sono cinquanta euro, dai. Le ragazze non vede di che hai cinquanta. Sei una cucina C.S. Le S sono qui, l'altro sono. Vabbè? è buona grazie 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 CS Gine da sogno Gine da sogno Gine CS CS arredamenti Cucine da sogno Cucine da sogno Cucine da sogno Cucine da sogno Buonanotte, buonanotte, buonanotte Buonanotte, buonanotte 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 Grazie a tutti. 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 Promessa quindi la cucina e gli arredamenti per il matrimonio? Tutto CS Arredamenti. Un saluto. Ciao. CS Arredamenti. Buonasera, continuiamo sempre, niente di meno animazione, siamo in compagnia di... Larissa? Funziona, non ti preoccupare. E? Raffaella. Raffaella già si sta appoggiando, già si sente a casa, vedi ho visto che si appoggia su CS, conoscete CS voi? Sì, sì, sì. È un sì, molto, complimenti. C'è la cucina a casa? Certo. Ok, come deve essere la tua cucina ideale? Una cucina CS. Il suggerimento, meno male. Allora, ci fate un saluto. Di dove siete voi? Grazie a me, provincia di Caserta. Provincia di Caserta, allora, un applauso, un applauso a Caserta, salutiamo i miei amici di Caserta e un saluto a CS. Ciao CS. Ciao. Grande, grande entusiasmo ragazzi, CS. Sì. Grande, grande. Ciao ragazzi, conoscete la cucina CS? Sì, certo. Ma non si può lavorare a CS. Non voglio dire, ma tiene proprio la faccia da CS. No, sembrava così. Ragazzi, vedi, così puoi andare a finire col pigiama. Ti piace il pigiama? Sì. Usi il pigiama? L'agia è. M, vedi, il pigiama CS. C'è anche il cugino, vedi, il cugino col cuscino, ovviamente. Allora, subito me ne vado, vedi. Siamo, arrediamo al volo, vedi. Andiamo in cucina, andiamo in cucina, vedi. Andiamo in cucina, ecco qua. Ci siamo, ragazzi, sempre con niente di meno eventi. Eccola qua. Allora, prego, mettiti qua. Allora, vuoi comprare una cucina? Sempre la regali. Sempre la regali. Però se è una cucina a CS? Senz'altro sì, allora. Sempre. Certo. Allora, ci fate un saluto a CS e fate una faccia da CS. Va bene così, va bene così. Ok, vai. Un saluto a CS. Ciao CS. Ciao. Grazie. Grazie. Buonasera, siamo sempre qui a Salerno con niente di meno eventi, spettacoli, luci d'artista. Guardate, non siamo solo noi col pigiama, ma vedi, sono persone che hanno, vedi, un pigiama elegante. Come ti chiami? Mario. Mario, Mario, molto piacere. Mario, allora Mario, tu a casa, anche tu hai una cucina? Due. Due cucine. Le cose vanno bene, come si dice, Bergamo Alta. Allora, conosci CS? Tantissimo, la vedo proprio pubblicizzata dappertutto. Allora, ci fai un saluto, uno slogan per CS Arredamenti. Complimenti, non hai scelto Davide Zotti come testimonial. Io sono con lui e i CS Arredamenti. Vedi, vedi, ecco, vedi, quasi cartella dappertutto. Allora, due, doppio, doppio. Fammi una faccia da CS. CS Arredamenti? Ha una cucina a casa? Sì, ha due. Pure lui le cose vanno bene, si vede dalla macchina, giustamente? No, vabbè, comprerà anche lei una cucina a CS? Ci promette? Sì, sì, prima o poi la compro. Grande, grandissimo, grandissimo, comprete anche per la camicia. Allora, ci fai una faccia da CS? Va bene questa, un saluto a CS. Scusi, CS. Non lo conosciamo. Come, una cucina a CS, CS Arredamenti? Non la conosciamo. Bravo, comprerai anche tu una cucina a CS? Sicuramente. Buonasera, un saluto al cane. Topi, Topi, allora, conosci CS Arredamenti? No. Ma come no? Vedi, ora lo conosci, diamo un volantino, ecco qua, vedi? Sogni in corso, ci fai un saluto. Anche il nostro amico a quattro zampe conosce CS, siamo sempre noi di niente di meno eventi spettacoli con? Fiore? E Tina. Wolf, come si chiama lui? Ercole. Ercole. Vabbè, crescerà sicuramente, ma Ercole, vuoi vedere un nome così, però comunque sicuramente crescerà. Allora ragazzi, conoscete CS Arredamenti? No. No. Perfetto, ok, avviciniamoci, avete una cucina a casa? Sì. Una cucina, ma è una cucina da sogno? Sì. No, andate già, moda so. Questa è una cucina da sogno, vedi, CS, eccola qua, Open Days, vi aspettiamo ragazzi, 28, 29 e 30 novembre, ci sarete? Ci sarete. Anche Ercole, un po' più, diciamo, Ercolato, una faccia, una faccia da CS, va bene così, grazie. Ciao ragazzi. Buonasera, siamo un tetto a tetto, c'è anche lui, buonasera, in compagnia di? Un tetto. Un tetto a tetto, tetto, e mai tengo un po' di più, diciamo, e più tu stai più in forma. Allora, siamo in compagnia di? Giuseppe Incarno, io sono Pinossa. Giuseppe Incarno, Incarno è il cognome, però Pinossa è il soprannome. Allora, conosci CS Arredamenti? Come no. La tua cucina da sogno? Cess. Ciao, CS, non... Cess. Cess, cioè, è in americano, diciamo, fammi una faccia da CS, da... CS. Ecco qua, un saluto. Ciao. Grande. Conoscete il cognome spettacolo? Conoscete CS? No. Arredamenti? No. No. Siamo in compagnia di? Marcella. Adriana. Dove siete ragazze? Io da la provincia di Bari. Cava dei Tirreni. Cava dei Tirreni. Addirittura, ragazzi, guardate, da Bari, Cava, complimenti, il collegamento. Come? Vivo a Bari, comunque. Ah, vivo a Bari. Cucine da sogno. Allora, ragazze, ci fate un saluto in barese, però, stretto. No, non te lo so fare. Rispatatecoz. E non solo. Non te lo so fare, mi dispiace. La mortazzo con la focazza. Allora, ci fate un saluto a CS? Sì. Un bacione a CS. Un bacio a CS. Fai una faccia a CS? A CS. Come deve essere la cucina per essere da sogno? Funzionale, bella, pratica e vivibile. Quindi, CS Arredamenti, cucina da sogno? CS Arredamenti, cucina da sogno. Facciamo insieme un saluto a CS Arredamenti, vai! Ciao! A CS. CS. Ah, bello, buonasera. A nostra cucina, c'è la favola, accompagnamento. Vi aspettiamo all'Open Day, 28, 29 e 30 novembre. Partamone, alziamo. CS, nocera inferiore. CS.